170 casi registrati nella settimana compresa tra il 29 maggio e 4 giugno. I numeri della provincia BAT certificano la discesa della curva del contagio da coronavirus. I casi emersi nei sette giorni precedenti erano stati 316. In netto calo anche il numero dei decessi, 19 erano stati quelli registrati tra il 22 e il 28 maggio, 7 quelli della settimana appena trascorsa. In calo anche i dati dei 10 comuni che compongono la provincia. Il centro con i numeri più alti resta Barletta con i suoi 485 casi attivi, dato invariato rispetto alla scorsa settimana. In discesa i numeri ad Andrea e Trani. Nel centro federiciano gli attualmente positivi sono 224 a fronte dei 325 comunicati il 26 maggio, mentre a Trani gli attualmente positivi sono 109 a fronte dei 218 di fine maggio. Invariato il dato di Biceglie, nella città del Dolmen i casi attivi sono 182. Nessuna variazione anche a Canosa di Puglia e Margherita di Savoia, centri nei quali gli attualmente positivi restano rispettivamente 25 e 61. Nessuna novità anche da San Ferdinando, i casi attivi nel centro fantino restano 14. In discesa i numeri di Trinitapoli, città nella quale gli attualmente positivi sono 8 a fronte dei 13 comunicati il 26 maggio. In calo anche i dati dei centri murgiani. A Spinazzola i casi attivi scendono dai 30 di fine maggio agli 11 attuali, mentre a Minervino Murge si è passati dai 7 casi attivi della scorsa settimana ai 3 attuali.